Sono un po' emozionato perché non sapevo di dover parlare di fronte al Presidente del Consiglio, in più sono rimasto chiuso nell'ascensore a Famagosta, ho rischiato di perdere il treno e quindi oggi è stata veramente un'impresa, essere qua ma sono molto contento, la mia prima volta respiro un'aria che non mi aspettavo. Vi porto una brevissima testimonianza del mondo Anfas, il mondo dell'associazione delle famiglie con disabilità intellettiva, attraverso una storia che riguarda il futuro, che riguarda il tema del dopo di noi. Quando quattro anni fa un gruppo di quattro famiglie ha deciso di mettere in comune una casa, un'abitazione di proprietà per costruire per quattro persone con grave disabilità a mortare in provincia di Pavia un progetto di vita indipendente, ha dovuto compiere un percorso in salita ma soprattutto ha dovuto solcare un sentiero che non c'era all'interno di una situazione istituzionale di vuoto normativo. C'erano e ci sono ancora oggi dei posti letto in case di riposo, c'erano e ci sono ancora oggi dei posti letto in grandi strutture sociosanitarie, non ci sono oggi abbastanza luoghi in strutture dedicate, ma queste famiglie hanno deciso di compiere un percorso alternativo. Invece di andare a cercare un posto letto, hanno deciso di aiutare queste quattro persone adulte con grave disabilità a mettere su casa. Per farlo hanno dovuto provocare la cooperativa sociale e l'associazione di cui loro stessi erano soci, hanno dovuto coinvolgere le amministrazioni locali, alla fine ce l'hanno fatta e hanno aiutato quattro persone a mettere su casa e a costruire un progetto per la vita indipendente per il dopo di noi per quando loro non ci saranno più. Questo piccolo sentiero in salita oggi, grazie alla legge che il mondo Anfas ha apprezzato, è una strada, è una grande strada, è una strada che potrà essere allargata, resa ancora più semplice, resa ancora più scorrevole, ma è una strada che c'è e che consente oggi e in futuro a tutte le persone con disabilità di poter scegliere dove vivere e come vivere e con chi vivere, per essere cittadini fino in fondo. Ma non basta, è una legge che toglie alibi, toglie alibi al nostro mondo, al mondo dell'associazionismo e del terzo settore. Non ci sono più scuse, ci impegna, ci impegna tantissimo a tornare al futuro. Il mondo del terzo settore, dell'associazionismo e delle cooperative sociali non è un mondo nato per erogare prestazioni in cambio di corrispettivi. Noi non siamo degli enti erogatori di prestazioni. Il terzo settore, l'associazionismo, è nato per cambiare il mondo. Questa legge dà degli strumenti precisi. Anfas c'è, ci sarà, speriamo di essere sempre all'altezza di questa sfida. Grazie.